Noi abbiamo fatto un gioco con Carlo Gabardini, un video che parla di poligamia. Esasperiamo il tema della trascrizione dei matrimoni ugualitari dicendo che in Italia viene consentita la poligamia. Come detto è un gioco ma il tema è molto serio invece perché riguarda naturalmente la vita di migliaia di persone, di cittadini italiani e cittadini stranieri che non possono vedere riconosciuti i loro diritti che negli altri paesi sono riconosciuti e più in generale invece riguarda il tema dei diritti civili delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali che non hanno nessun tipo di legge a tutela e di promozione dei diritti nel nostro paese. Cosa dice a chi si oppone al riconoscimento di matrimoni che vengono dall'Unione Europea tra l'altro? Faccio un discorso generale. Hanno perso. Anche se loro riusciranno a procrastinare nel tempo ancora un pochino, ma loro hanno perso storicamente, hanno perso la loro battaglia e devono farsene una ragione. Questo è il motivo per cui si stanno incattivendo. Potranno rallentare il percorso delle leggi ma il percorso storico ormai è definito e la battaglia sull'uguaglianza sarà vinta.